Pronti? Pronti. Ma sei sicuro che sono i nomini giusti? Ci abbiamo solo questi. Andiamo. Andiamo. Ma che è sta musica? Prendi una cassetta. No. 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 Questa è quella giusta. No. 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 che stanno tutti a mangiare che lo riportiamo stasera non si preoccupate non si preoccupate Noi ci siamo Con voi come se temo comporta? Beccamosi tutti a ristrutturata mente 11, 12 e 13 ottobre a Guidogna al campo da basket a Via Baden Powell E venerdì 11 una birretta con Mongo Boys Plastic Stato Brado Factory Terapia del Delore E a seguire DJ Set a cura di Frass Squad Sabato 12 Un whisky Volendo Con Lead Free And Amaged The Ophelia's Revenge Massive Blast Element of Cardi Domenica 13 Un bicchiere di vino con Infoly Trio Moair Phoenix Blues Band DDM Day Up And Sebastian Contrario E in più Oggettistica Esposizioni Fotografia Tatuatori Billa 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 Gilla Billa Billa